Chi ha il cuore chiuso non riesce a comprendere che Gesù è il figlio di Dio venuto a salvarci dai nostri peccati e portarci dal Padre, venuto per dare la vita, per la nostra salvezza. Così Papa Francesco ha la messa celebrata a casa Santa Marta. Commentando il Vangelo del Giorno, il Pontifici ha chiesto a tutti di interrogarsi sulla propria fede, seguendo Cristo sulla strada del perdono e dell'umiliazione. La fede in Gesù Cristo. Com'è la mia fede in Gesù Cristo? Credo che Gesù Cristo è Dio, è il figlio di Dio. E questa fede mi cambia la vita? Fa che nel mio cuore si inauguri quest'anno di grazia, quest'anno di perdono, quest'anno di avvicinamento al Signore. E la fede è un dono. Nessuno merita la fede. Nessuno la può comprare. È un dono. La mia fede in Gesù Cristo mi porta all'umiliazione. Non dico all'umiltà, all'umiliazione. Al pentimento. Alla preghiera che chiede perdonami, Signore. Tu sei Dio. Tu puoi perdonare i miei peccati. E il mezzo. Tu puoi perdonare Tu puoi perdonare